buonasera e ben trovato ai nostri amici telespettatori un nuovo appuntamento del giovedì un nuovo appuntamento con la cultura e soprattutto con la nostra rubrica oltre la storia quando gli dei non volevano morire questo è il sottotitolo del libro di Corrado Malanga il nostro ospite ne parleremo insieme con lui ma restate con noi subito dopo la prossima Grazie a tutti! 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 Edoardo Ben trovato! Grazie a tutti! 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 Ci puoi raccontare qual è la tematica di questa nuova ricerca se riguarda sempre la grande piramide se sono stati fatti degli studi anche su qualche altra struttura perché insomma il fermento è dietro l'angolo insomma perché quello che hai realizzato in termini di ricerca su SAR è stato veramente un evento epocale se vogliamo chiamarlo così quindi volevamo capire insomma com'è la situazione ad oggi. Sì! Il libro come vedete questo qui ormai ce l'ho sul comodino tutte le sere e me lo guardo e così anche Filippo mi dice se lo guarda con una lacrima che gli scende davanti all'occhio per la commozione della nostra opera è come un bambino piccolo no? Che ovviamente lo salutiamo e lo invitiamo eh ufficialmente poi per farci una chiacchierata. Certo certo e abbiamo messo abbiamo deciso di scrivere questo testo perché ci siamo resi conto che la gente eh normale che non aveva eh dimestichezza con i lavori scientifici non si poteva leggere il lavoro che noi avevamo pubblicato su remote sensing in inglese con tutte le formule matematiche e tutta la bibliografia ehm e allora abbiamo cercato di da una parte rendere questo lavoro popular cioè disponibile per tutti e con un libro che spiega se esattamente pezzo per pezzo il lavoro che abbiamo fatto e a questo punto però abbiamo aggiunto nel testo altre eh informazioni perché mano a mano che si va avanti non si finisce mai no? Io stesso dico sempre ora basta ho finito non ne voglio più sentire parlare basta scrivere libri e dieci minuti dopo mi viene in mente un'altra idea e vado avanti lo stesso no? Così come Filippo ora stiamo pensando di ehm proiettare la nostra ricerca in una futura direzione che chiaramente quale sarà? Sarà eh l'utilizzo del del SAR per altri tipi di monumenti ehm vicini e lontani dalla piana di ghizza eh in questo istante però ci siamo presi una cosiddetta pausa di riflessione nel senso che è importante migliorare il software a nostra disposizione per poter guardare molto meglio e molto più nel piccolo eh tutti quei particolari che già sono venuti fuori nella piramide di Cheope quindi riuscire a far vedere immediatamente e a far capire immediatamente che tutte quelle macchie di colore che abbiamo tirato fuori come tomografie che poi diventano una tomografia di tre dimensioni devono essere ancora più facilmente eh comprensibili da tutti e per fare questo ci vuole ovviamente un po' di tempo però c'è già parecchio parecchi mesi che ci stiamo lavorando dopodiché punteremo il nostro target su qualche altro pezzo importante della nostra storia e anche lì quello che verrà fuori saranno dolenti note per i libri di storia perché dovranno essere secondo il mio modestissimo punto di vista riscritti questo è lo stato dell'arte c'è anche un altro aspetto della questione che è nello studiare gli antichi eh eh l'antica piramide di Cheope eh eh sì è vero che noi abbiamo scoperto delle cose cioè tutte le stanze che ci sono dentro come sono fatte il modellino tridimensionale a proposito nel testo nel libro c'è una pagina in cui il lettore potrà trovare un codice a barre un codice a barre aspetta ve lo faccio vedere eccolo qua un codice a barre e cliccandoci sopra avrà a disposizione immediatamente tutte le immagini del testo in altissima risoluzione quindi si potrà divertire a casa giocare anche lui come abbiamo giocato noi con i pezzettini da incastrare per vedere com'è fatta la piramide partecipare così tutti quanti insieme alla scoperta della piramide stando a casa è come se uno avesse fatto un bel giro nella piramide di Cheope e quello che è venuto fuori è sostanzialmente la parte interessante cioè non si può costruire la piramide di Cheope se non si conosce il teorema di Pitagora e allora ci siamo dovuti chiedere da dove viene il teorema di Pitagora aveva veramente inventato Pitagora e le cose non no non sono andate così perché abbiamo scoperto e nel testo lo racconto l'ho raccontato anche nella conferenza di Roma che il teorema di Pitagora era conosciuto dagli indiani dell'india era conosciuto dai cinesi era conosciuto dai babilonesi era conosciuto dagli stessi egizi nessuno di loro pensate si tratta di duemila duemila cinquecento tremila anni fa nessuno di loro sa perché esiste il teorema di Pitagora ma lo usava e questo vuol dire una cosa sola no quando vedete tutti sanno a scuola che il teorema di Pitagora è il quadrato dei cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa la somma del quadrato dei cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa però dietro questo questa una delle formule più importanti del cosmo oserei dire della matematica ci deve essere una dimostrazione come sono arrivati gli antichi egizi a dimostrare questa cosa oppure gli antichi indiani oppure gli antichi cinesi esiste solo una ipotesi che mi sembra molto valida non sono stati loro a scoprire il teorema loro lo utilizzavano perché lo conoscevano nel senso che qualcuno gli aveva detto a quadro più b quadro uguale c quadro ma da dove veniva la formula la formula veniva da qualcuno che gliela aveva detta la formula veniva da i veri costruttori e ideatori delle piramidi della piana di Giza o di Giza che dir si voglia i quali avevano una conoscenza della matematica che sicuramente era superiore a quella dei trogloditi egiziani che servivano solo e l'abbiamo visto nel libro c'è scritto a essere utilizzati come manodopera non c'è niente altro dietro ma allora l'idea è stata ma sì sostanzialmente loro sapevano gli antichi egizi che se io prendo una corda e faccio su questa corda 12 nodi tutti distanziati l'uno dall'altro e posso costruire un triangolo che ha il lato 3 il lato 4 e l'ipotenusa che è 5 perché 3 al quadrato più 4 al quadrato fa uguale a 5 al quadrato e così in qualche modo loro moltiplicando i nodi su tutti i lati e sull'ipotenusa potevano costruire tanti triangoli rettangoli al di là di questo però la comprensione lì finiva ma il 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 teorema di pitagora c'è un problema cioè è alla base di tutte le più importanti formule matematiche che noi conosciamo il teorema di pitagora è l'equazione di einstein sostanzialmente sono la stessa cosa non come la conosciamo noi perché si toglie un pezzo e uguale mc al quadrato non è la vera equazione di einstein la vera equazione di einstein è e quadro uguale m2c alla quarta più un quadrato di un altro pezzettino quindi vedete che è la somma di due quadrati che da un altro quadrato ma allora il teorema di pitagora e e e l'equazione di einstein sono la stessa cosa non solo l'energia del campo elettrico del campo magnetico dell'equazione di maxwell e sono ancora una volta un teorema di pitagora così come l'equazione di schrodinger è un teorema di pitagora così come l'indeterminazione di heisenberg è un teorema di pitagora insomma tutto era un teorema di pitagora vuoi vedere che nel teorema di perché chi conosceva il teorema di pitagora conosceva anche tutte queste cose perché se così era è se così era siccome il teorema di pitagora secondo me secondo noi entra anche nella costruzione dell'universo olografico cioè di come è fatto l'universo secondo l'astrofisica modernissima beh ci sta anche che gli antichi egizi sapessero questa cosa e secondo noi la sapevano ma questo cosa vuol dire oggi no cosa vuol dire che studiando con un sistema modernissimo come il radar ad apertura sintetica il nostro passato riscopriamo ancora una volta il nostro futuro cioè quello che saranno le prossime scoperte che noi faremo perché perché probabilmente gli antichi costruttori ideatori delle piramidi idoli cocefali a cui io mi riferisco sempre tutte queste cose le sapevano quindi sapevano anche che l'universo era un ologramma prima osservazione seconda osservazione è che loro hanno giocato con questa macchina la piramide che serviva a raccogliere le vibrazioni del vento e attraverso l'aria e l'acqua che era all'interno della piramide questa vibrazione veniva utilizzata per fare qualcosa per scopi non tanto come si direbbe oggi di tipo di carattere religioso se non anche ma di carattere curativo cioè le vibrazioni curavano il faraone in quel contesto che poteva così rivivere anni e anni senza morire senza ammalarsi tutti i calcoli sono stati fatti trovate tutto nel primo libro e nel secondo libro quindi su pi greco non si scherza i conti sono quelli le piramidi erano costruite su 3 4 numeri che sono sostanzialmente la sezione aurea pi greco ovviamente il mai sufficientemente l'ho dato numero e il numero di nepero dovete pensare che il mondo come lo conosciamo noi e che noi descriviamo con la nostra matematica quella è la nostra matematica qualsiasi cosa abbia creato l'universo dio un computer o noi stessi abbiamo usato la matematica dell'universo quindi quando io dico 1 2 3 4 5 questi numeri sono uguali dappertutto nell'universo se si usano per contare gli oggetti ma se si usano per dire quanto è lungo un dito è chiaro che sulla terra useremo delle unità di misura completamente diverse da quelle che si possono usare su alfa dei centauri e allora l'universo che unità di misura ha usato ecco ha usato pi greco e il numero di nepero 430 quella cosa che noi vediamo con sottoforma di 432 che è una delle vibrazioni più importanti e che ci ha permesso anche un multiplo di 432 hertz di andare a vedere con radar all'interno della piramide ma che strano abbiamo ottenuto i risultati migliori proprio con quei numeri lì non può essere un caso allora era importante capire studiare l'antica matematica degli antichi egizi perché attraverso quella quel cammino noi avremmo potuto confrontare i nostri dati cosa sappiamo noi dell'universo ecco l'universo olografico appare come un universo completamente privo di dimensioni non ci sono pere mele chili joule chilometri al secondo tutto è adimensionale un po come max plank aveva deciso di fare parlando di fisica quantistica le unità di misura rompono le scatole veramente ci sono quelle costanti dell'universo di cui si sente sempre tanto parlare no la velocità della luce c la costante di planc h che uno banco sa che cos'è no la costante di struttura fine dell'universo 137 ma che è sta roba ecco ci siamo resi conto attraverso un triangolo rettangolo che questi numeri tutte queste costanti dell'universo potevano essere scritte come multipli o sottomultipli di pi greco e sezione aurea era incredibile sapete questo triangolo rettangolo è molto semplice c'ha due cateti uno è 137 che strano la costante di struttura fine dell'universo l'altro è 266,87 dice che cavolo è sto numero è 432 diviso la sezione aurea interessante e 300 sostanzialmente è l'ipotenusa che sostanzialmente è la velocità della luce siccome 137 uno dei cateti e anche in fisica la carica dell'elettrone al quadrato diviso la velocità della luce diviso la costante di planc in quel triangolo lì avevamo tutte le costanti dell'universo in un solo triangolo rettangolo capite che gli antichi la sapevano lunga su questa cosa e non basta sì un angolo ovviamente è 90 gradi ma gli altri due angoli sono esattamente multipli di pi greco e di e il numero di nepero in modo precisissimo fino alla decimillesima cifra dopo la virgola avevamo un triangolo rettangolo tutto l'universo pensate questa cosa meravigliosa così si poteva capire dai conti che noi abbiamo fatto che l'universo che noi vediamo è fatto di numeri ma i numeri nostri la nostra matematica deve essere moltiplicata o per uno diviso la radice di e per quanto riguarda tutte le misure dello spazio tempo oppure per la radice di pi greco diviso 4 per tutte le misure che riguardano l'energia così abbiamo trovato una pietra di scambio praticamente tra le misure di un universo puramente olografico e tutto il resto porca miseria ma allora allora gli antichi egizi sapevano tutta questa roba qua e sapevano che l'universo era un ologramma è sì probabilmente sì se non l'avessero saputo non avrebbero potuto costruire la piramide ma soprattutto non avremmo l'idea che ci siamo fatti che loro sapevano perfettamente che cos'era un'anima una mente e uno spirito la new age ha parlato in toni veramente poco coerenti di queste tre cose ma dai miei studi che ho fatto già in lo tempore quando mi occupavo di adduzioni aliene ecco che si scopriva nelle ipnosi regressive che avevamo fatto che il corpo umano era fatto di un'anima di una mente di uno spirito e gli antichi egizi già nei loro discorsi scritti perché loro scrivevano tutto lo dicevano esiste un ba che è una parte animica esiste un ca che è una parte spirituale non tutti gli esseri umani hanno il ba pensate esiste un anc e loro sapevano esattamente tutti i pezzettini che conosciamo noi a cui noi siamo arrivati beh non li avevano già presenti e questa cosa qui non si può fare se non si ha capito che l'universo è un ologramma e poi la bellezza della scoperta finale quale è stata che poi non è la scoperta finale perché c'è un'altra scoperta finale che è molto più interessante che vi dico fra un attimo perché secondo me veramente esaltante la scoperta penultima è che all'interno della piramide attraverso questo grosso marchigegno che funzionava a vibrazioni gli antichi dei creduti dei ma falsi dei dagli antichi egizi cioè i veri pensatori della costruzione della piramide sapevano esattamente manipolare la parte animica del faraone che era quella cosa che attaccata e staccata dal faraone stesso permetteva al faraone di guarire quando lui era malato oppure di giungere a una vita prolungata se uno parte da questo concetto poi scopre che nel mito e nella storia antica di tutti i popoli ci sono le stesse caratteristiche cioè come nell'antico nell'antica storia del popolo ebraico c'era un matusalemme che viveva chissà quanto tempo e c'erano i re babilonesi che vivevano cinquemila anni quelli i primi coloro che sono venuti per prima così l'elenco che noi conosciamo perfettamente dei faraoni egizi copre un periodo di venticinquemila anni prima di arrivare a quella che è l'età moderna dei faraoni moderni quando i faraoni erano dei il primo faraone dio vive otto mila anni poi si comincia a scendere subito dopo tre mila anni duemila cinquecento mille il faraone semidio viveva due tre mila anni il faraone poi uomo ha cominciato a vivere normalmente normalmente si va per dire trecento anni duecento anni che cosa succedeva e l'entropia ancora una volta ci dà ragione che non si può fare la fotocopia della fotocopia della fotocopia perché poi alla fine non leggi nulla in parole povere le informazioni genetiche del faraone si perdevano mano a mano che il faraone faceva il processo di rivivificazione del suo corpo andando perfettamente nella direzione del secondo principio della termodinamica che dice si può dire in tanti modi ma uno dei modi è devi morire perché solo facendo accettando la morte ne farai esperienza e l'esperienza cioè l'entropia deve crescere quindi ti tocca morire perché l'universo è fatto così ma questa non è l'ultima scoperta l'ultima scoperta l'abbiamo fatta mentre io e io facevamo i conti perché ci siamo resi conto alla fine ma questa è vera notte incredibile che il nostro vero scopo il nostro vero target non era come pensevamo all'inizio scoprire cosa c'era dentro la piramide e dirlo a tutti perché la nostra idea era le cose vanno dette non vanno lasciate nell'oblio come fa qualcun altro che si chiama zaki awas da qualche parte del mondo le cose vanno dette vanno non ci deve essere una massoneria che dice che l'agnosi è solo per chi se la merita no l'agnosi cioè la conoscenza deve essere per tutti noi siamo partiti filippo ed io con questa idea e pensavamo che il target finale fosse guardiamo all'interno della piramide scopriamo la struttura vediamo com'è fatta e voilà e lo diciamo a tutti così scopriremo che la storia va completamente riscritta sì questo era l'obiettivo finito nascosto ma inconsapevolmente dentro di noi ci siamo resi conto quando eravamo alla fine del lavoro che abbiamo scoperto che il radar ad apertura sintetica era uno strumento che imita la coscienza umana e vi spiego subito perché è questa cosa mi viene la pelle d'oca sarà poi il risultato di quelli che saranno i nostri prossimi studi costruire una struttura che descriva in formule la consapevolezza umana cioè ancora una volta veramente che cos'è l'entropia e vedete noi i primi risultati che abbiamo ottenuto quando guardavamo la piramide all'alto era semplicemente vedere come vibrava la piramide e lì abbiamo scoperto che la piramide in realtà ha otto lati perché ogni lato rientrava come l'abbiamo scoperto facendo due passaggi con radar uno il giorno uno e l'altro bisogna aspettare 16,7 giorni perché il satellite torni sulla stessa geometria della prima fotografia e faccia una seconda fotografia ma siccome il radar il satellite non è che è precisissimo non può tornare esattamente sul punto di partenza per fortuna sbaglia e quindi si sposta di qualche metro o di qualche decina di metri e lì fa una seconda fotografia pensate se non fosse così noi non noteremmo i risultati che abbiamo ottenuto avevamo così due punti lievemente diversi i quali ci permettevano di sovrapporre matematicamente le informazioni di un punto con le informazioni dell'altro punto avevamo due punti di punto di osservazione e questo ci permetteva di costruire praticamente nello spazio un interferogramma cos'è l'interferogramma sapete l'esperimento di jung della doppia fenditura un'onda passa attraverso una doppia fenditura su uno schermo e dall'altra parte si creano le figure di interferenza noi avevamo eccole qua le figure di interferenza ci fanno capire come dall'alto si vedono le piramidi vedete sono figure di interferenza in cui non si vede chiaramente come le cose sono fatte esattamente ma bisogna interpretare queste strane strisce che ci daranno le informazioni necessarie guardate in quell'istante ci siamo resi conto di una cosa fondamentale le figure di interferenza si ottengono solo se ci sono due osservatori ma sapete cosa vuol dire questo questo lo scriveremo nel prossimo libro vuol dire che la coscienza all'inizio dell'universo si è divisa in due coscienze e tutte e due le coscienze sono quei punti le due fenditure che ci permettono di osservare l'universo come lo stiamo osservando cioè noi stiamo osservando delle degli interferogrammi in questo momento noi stiamo vedendo l'universo come se fosse un interferogramma il nostro è molto più bello come interferogramma vedete come si vedevano dall'alto nella prima proprio nel primo approccio le piramidi della piana di ghiza che frene micerino e con un cuff quello che si vede sostanzialmente è che c'è un certo tipo di errore tra una immagine e l'altra ma i due errori si sovrappongono e ci permettono di costruire una prima immagine tridimensionale come fa il nostro cervello quando esamina l'universo con la sua parte destra del cervello e la sua parte sinistra in quell'istante noi facciamo la stessa cosa che fa il satellite il radar ad apertura sintetica nei primi due passaggi noi abbiamo ottenuto un interferogramma il nostro è più bello l'interferogramma perché noi abbiamo una cosa che è la nostra coscienza che ci permette di costruire una cosa che si chiama trasformata di furie che fa anche il satellite che fa anche il calcolatore una roba matematica che può sembrare difficile ma in realtà pezzo per pezzo si spiega molto bene dentro la quale c'è l'istruzione che dice come mettere a fuoco gli oggetti pensate noi possiamo vedere l'universo e lo vediamo in questo modo perché il nostro cervello fa una trasformata di furie come il radar ad apertura sintetica a quel punto ci è venuto in mente che potevamo andare avanti potevamo costruire un modello matematico che ci permetteva di descrivere la coscienza questo sarà il nostro prossimo obiettivo andremo avanti e guarderemo anche nelle altre piramidi sicuramente ma ci siamo resi conto che il nostro vero scopo una specie di mission si potrebbe dire così che avevamo dentro che non comprendevamo di cui abbiamo capito e acquisito coscienza dopo era un altro capire come funziona la coscienza umana pensate ancora una volta con uno strumento importante come il radar e il satellite siamo andati indietro nel passato per scoprire quelle che saranno le scoperte del futuro mi sembrava una cosa veramente importante forse è stata la scoperta più importante e anche la meno eclatante di quella che abbiamo fatto perché la gente vede il modellino di tre dimensioni e si diverte perché si vede che cosa c'è dentro e noi l'abbiamo spiegato tutto quello che c'era dentro lì in qualche modo guardare dentro la piramide era come guardare dentro il corpo umano acquisirne consapevolezza e coscienza perché non saremmo riusciti a ottenere nessun risultato applicato consapevolezza e coscienza guardate in questa foto come si vede bene lo zed pensate che lo zed è che appare come figura praticamente strisce di colore noi lo stiamo osservando da 680 chilometri di altezza all'interno di una massa di 229 metri di larghezza e 146 metri di altezza e dentro il cuore c'è granito pensate come è stato incredibile fare questo e come il computer ci ha aiutato a dimostrare ancora una volta che la piramide è una macchina per vibrazioni perché lì lo abbiamo dimostrato abbiamo riprodotto con il computer proprio la le vibrazioni che accade che c'erano nella stanza del faraone e che sono le vibrazioni che entrano da questa specie di zed che è un filtro passa basso si vede perfettamente una delle cose più importanti la vibrazione alla fine che è una bassa frequenza siamo sui 32 hertz entra all'interno della stanza collimando esattamente la testa di quello che stava all'interno della vasca di granito si aveva la testa a sud e i piedi a nord guardate questa è come appare in quella che è per ora l'alta risoluzione nostra ma che come vi dicevo all'inizio cercheremo di migliorare quello che stiamo facendo e lì si vede chiaramente che la frequenza va a sbattere nella testa di quello che era lì dentro che poi si scopre non è il faraone ma è un povero disgraziato che viene preso dalla plebe un povero disgraziato che però è animico ha la sua parte animica che con questo trucco gli viene staccata e come a un tubo elettrico gli viene attraverso l'acqua portata nella stanza di sotto e ficcata a forza nel faraone che sta nella stanza della regina dentro una una specie di gigantesca canna d'organo probabilmente costruita in legno perché non se ne sono trovate le tracce ma si è trovata la traccia del pavimento dove si vede chiaramente che c'era questa forma dove sicuramente il faraone attendeva la sua l'energia di quest'altro tizio con questo sistema il faraone viveva pensate professore grazie per la disquisizione è stata amplissima e veramente il tempo corre ma nel frattempo volevo segnalare che abbiamo numerosissimi amici telespettatori in collegamento superiamo le 500 persone in collegamento e alle quali vorrei dire amici ragazzi tutti quelli che ci state ascoltando vi invito a mettere un like al nostro video perché sono pochissimi like ma voi ne siete tantissimi allora se veramente vi piace così come sono le tante domande gli apprezzamenti che ci arrivano in regia io vi invito a mettere subito il vostro like nel frattempo professore vorrei dare spazio a qualche domanda del pubblico ne abbiamo una marea e devo dire per necessità e per correttezza anche per esigenza temporale noi filtreremo quelle che possono essere più adeguate e più in tema rispetto all'argomento che stiamo trattando giusto per fare una piccola scrematura cercando di dare spazio a quanto è più possibile prego regia iniziamo con le prime ci scrive Diego Truscello prof malanga le ho sentito dire più volte che l'universo non sia infinito ma che somiglia più ad uno scatolone non trova qualche punto in comune con la legge dell'ottava e quindi con il cubo attendo un attimo professore ne abbiamo un'altra ci scrive Serena Ba io i non amici i non animici fanno l'esperienza in un solo unico contenitore grazie grazie a te prego professore dunque eh sì eh la legge dell'ottava eh noi va detto come premessa che noi possiamo descrivere l'universo in diversi modi a secondo delle coordinate che usiamo se usiamo le coordinate polari o le coordinate cartesiane le cose sono diverse perché nelle coordinate polari noi abbiamo una sfera in coordinate cartesiane abbiamo otto ottanti quindi otto scatoloni che costruiscono uno scatolone grande in questi otto ottanti c'è il numero otto che è estremamente importante e che è un numero che dice anche che l'universo è un ologramma perché perché è un frattale perché il frattale ha una sua complessità che si chiama di di grande questo di grande è uguale al logaritmo naturale del numero delle celle che sono otto diviso il logaritmo naturale della lunghezza di una cella che è sostanzialmente un numero che è la sessione aurea o non fa 434 e 32 questa questa cosa strana quindi pensate l'universo ha come grado di complessità esattamente la il numero che è anche la frequenza a cui l'universo in parte vibra una delle frequenze più importanti quindi sì se noi partiamo da questo tipo di coordinate è certo la legge dell'ottava che è una legge in realtà è un principio perché noi lo vediamo tutti i giorni il numero otto ed il numero sette sette sono i livelli energetici otto sono i gruppi chimici per esempio una bella periodica degli elementi sette sono le note otto sono le ottave e così via in centinaia di esempi che potremmo fare per quanto riguarda la seconda domanda i non animici in realtà sono animici solo che non lo sanno solo che non se lo ricordano non ne hanno consapevolezza la loro parte animica non vuole entrare nel contenitore per fare l'esperienza e quindi sostanzialmente appaiono non animici però per una legge che è la legge della simmetria dell'universo cpt carità carica parità e tempo il numero di parti animiche è uguale al numero delle parti spirituali per forza di cose per cui non è che c'è uno senza parte animica c'è uno che ha rifiutato la parte animica c'è uno che lo ha rifiutata oppure la parte animica non ha voluto entrare lì dentro quindi perché poi il principio di causa ed effetto sono la stessa cosa in un universo non duale quindi ci troviamo di fronte per esempio a un alieno che non ha parte animica perché lui è sostanzialmente maschile maschilista e non ha nessuna voglia di farsi mettere i piedi sulla testa per proprio ignoranza e inconsapevolezza da quella che sarebbe la sua parte femminile e quindi la parte femminile dice lì dentro non mi ci vogliono non ci vado così questo può accadere anche con tante persone su questo pianeta sapete la maggior parte la totalità degli esseri su questo pianeta è una a spirito è spirituale ma avere coscienza di non rifiutare la parte animica beh solo gli animici hanno con sé la parte animica i non animici sono quelli che sono sostanzialmente maschilisti il nostro pianeta è un pianeta fatto di maschilisti l'ottanta per cento delle femmine è maschio e con uno spirito forte ma in realtà a se te chiedi a un imprenditore se un imprenditore femmina se vuole a assumere maschio femmine ti dirà maschi perché di femmine non mi fido e così mostrerà praticamente di essere a livello di una nostra premier che si vanta tanto di essere femmina per la prima volta di avere una femmina che comanda e invece in realtà è un maschio è un maschio dentro che ha rifiutato la sua parte femminile è chiaro nella chiesa le pretesse non ce le vogliono devono essere i maschi a comandare e questo tipo di situazione è dovuta al fatto che l'alieno che comanda su questo pianeta da milioni di anni sostanzialmente sta tentando di creare su questo pianeta una copia della sua brutta civiltà e ci sta riuscendo grazie professore anche se con le aperture prossime del concilio non dubitiamo che si possa arrivare anche a delle soluzioni che vanno in senso proprio come lei stava anticipando delle situazioni veramente rivoluzionali andiamo avanti altre due domande ci scrive januario sottanta una domanda per il per il prof una volta abbandonato il corpo fisico cosa percepiamo l'essenza di anima o di spirito grazie per la domanda ne abbiamo ancora un'altra però un'altra cosimo agostino sosto caro corrado ma la coscienza può essere considerata una grandezza fisica cosa è esattamente da come ne parli tu sembra un software che fa alcune cose grazie cosimo prego professore sì dunque parto dalla seconda perché già mi sono dimenticato la prima io prendo le gocce per la memoria ma poi mi dimentico di prendere le gocce per la memoria allora la coscienza non è matematicamente misurabile non è matematicamente descrivibile quello che si descrive è la consapevolezza della coscienza c'è una sottilissima differenza da un punto di vista matematico tra s entropia e delta s differenza di valore di entropia tra un istante e l'altro ecco la differenza di entropia tra un istante e l'altro io la posso misurare per prima ero più scemo oggi sono un po' meno scemo in realtà l'entropia totale che dovrebbe assumere il valore assoluto il valore di infinito è sempre costante nel diverso la coscienza è quello che è quello che la coscienza deve acquisire la consapevolezza di sé quella è un'altra cosa e quindi mentre posso descrivere il delta s come il logaritmo della differenza dei logaritmi dei microstati tra un momento e l'altro si direbbe così in termine termodinamico non si può stabilire perché valeva meno infinito all'inizio dell'universo che valore aveva s l'entropia perché meno infinito è un numero indeterminabile però noi sappiamo che alla fine dell'universo il delta s cioè la differenza di entropia che c'è tra meno infinito e zero che sarà infinito sarà uguale all'entropia che è quella della coscienza quindi solo alla fine dell'universo il delta s cioè la consapevolezza e noi possiamo scrivere delle formule che faranno una previsione solo in quel momento avremo raggiunto e potremo dire che la che la coscienza e la consapevolezza sono la stessa cosa e dunque la prima domanda non me la ricordo più januarius una volta abbandonato il corpo fisico cosa percepiamo cosa succede di animo di sì sì dalle informazioni che noi abbiamo per esempio gli studi del dottor ton lommel che era un medico olandese un cardiologo che ha analizzato circa 360 casi di infartuati alcuni di una clinica inglese specializzata per questo lui studiava le uscite fuori dal corpo allora solo il 20 per cento badate bene di tutte le persone che hanno avuto uscite fuori dal corpo e sono rientrati a raccontarlo solo il 20 per cento di tutti i suoi pazienti avevano questa capacità che cosa vuol dire ma noi abbiamo ritrovato per esempio che solo grosso modo il 20 per cento degli esseri umani è consapevole e almeno in ipnosi di avere una parte animica ancora una volta i dati del cardiologo sono identici ai dati delle nostre ipnosi regressive e questa è una cosa interessante ma che cos'è che esce e che poi torna nel corpo e racconta e la parte animica non è la parte spirituale non è la coscienza perché la coscienza quando esce dal corpo non torna per raccontarlo quindi noi non abbiamo nessuna nessun ricordo di questa cosa nessun dato mentre la parte animica quando esce fa ancora dei discorsi duali pensate alle esperienze di auto body experience no oppure near did experience e dove quando la parte animica rientra la donna o l'uomo che racconta dice io ero fuori dal mio corpo non volevo mica rientrare perché dentro si sta male male è duale si vedevo la gente che piangeva perché io mi vedevano morto ma io non ero morto e la gente piangeva ma non c'è nessuna compassione all'interno di questo discorso ma io chi mi frega io sto fuori non voglio rientrare la parte coscienziale una volta che esce dal corpo non rientrerà mai più perché vuol dire che il suo percorso di consapevolezza l'ha finito quindi che cosa succede dopo molto semplice noi che siamo i costruttori dell'universo se usciamo come coscienza integrata lì in quell'istante costruiremo ancora come stiamo facendo ora con la nostra consapevolezza l'universo che ci piace la casa che vogliamo pensate se una persona crede che l'universo sia una palla di luce che è dio vedrà quella palla di luce non si renderà conto che lui la sta creando se l'universo si pensa che non c'è niente dentro l'universo come piero angela si creerà uno scatolone buio in cui lui dentro rimarrà per il resto della sua vita cioè l'eternità fino a che non arriva qualcuno da fuori a dirgli ma guarda che ti sei castrato con le tue stesse mani quindi noi ci creiamo il nostro universo grazie professore edoardo a te la parola prego sì io vorrei tornare un attimino sul ragionamento del libro delle ricerche e quindi di del tema della serata perché ci hai mandato alcune slide dove si fanno vedere le famose lampade di dendera che c'entra anche con questo ragionamento che stai facendo se ci vuoi far un ragionamento su questo allora si è sempre pensato che nel tempio della dea Hathor pensate la dea Hathor è forse la dea più importante perché è la dea madre è come Aista Rastarte è come Inanna per la cultura mesopotamica è come Maria per i cristiani come lo stesso rapporto che c'è tra Isdi e Osiride il maschile e il femminile quindi in questo tempio si sono costruite si sono visti questi bassi rilievi dove ci sono queste cose che la gente ha pensato che fossero o qualcosa che era di tecnologia elevata guardate sono insomma degli ve lo dico francamente dei cilindri in cui dentro si vede un serpente allora perché si veda dentro il serpente è probabile che questi cilindri siano fatti di materiale trasparente ci possiamo chiedere questo e il serpente che cosa rappresenta se non per qualcuno ha pensato la corrente elettrica no e allora ecco che c'è anche un cavo che si vede uscire da questi due in questo caso cilindri e la gente ha pensato che si trattasse di lampade se voi invece guardate bene ci sono delle persone dei personaggi sotto le lampade di solito uno ha la testa che tocca la lampada chiamiamola così impropriamente e l'altro invece tocca la lampada con una sferetta che l'altro non ha questa sfera altro non è che potrebbe essere la coscienza la parte animica di un donatore che attraverso un processo di vibrazione perché vedete che c'è quella specie di z piccolino con le mani alzate che tocca uno dei due cilindri e che quando ha le mani alzate vuol dire sto funzionando sto facendo passando la vibrazione e ci sono due cilindri perché due sono gli omini che sempre di solito in queste strutture si vedono agganciati con la testa attaccata al materiale e in altre immagini si vede che c'è per esempio un operatore che è seduto davanti a una specie di schermo che sta aggeggiando tipo computer è evidente che questi conoscevano esattamente ecco guardate qui questo è pazzesca sta cosa c'è una specie di cilindro su ruota come vedete a sinistra che è collegato con quattro cilindri con dei cavi elettrici oserei dire sembrano proprio cavi e in alto ci sono quegli strani quadrettini che vedete che sono delle porte delle porte in testa alla dea ator delle porte in cui evidentemente l'archetipo del portale è far entrare o far uscire qualcosa guardate che questi quattro cilindri sotto sono collegati con quattro tipi di collegamenti diversi e solamente i due cilindri di destra hanno quella specie di barchetta in basso con questa pallina che rappresenta secondo mio modestissimo punto di vista la presenza di parte animica gli altri due non ce l'hanno quindi ancora una volta quello che si evince e si evince anche dalle preghiere che sostanzialmente venivano fatte al dio arra dove le preghiere che sono state poi tradotte diceva chiaramente al dio ora tu che entri nel nel mondo del dei morti non ti preoccupare perché noi che abbiamo quella cosa in testa in qualche modo te la passeremo a te ecco è chiaro che l'interpretazione precisa di tutto questo noi ora non la sappiamo ma la mia ipotesi è sicuramente più calzante tenendo presente tutti gli studi che abbiamo fatto finora rispetto al fatto che queste fossero delle semplici lampade quindi gli antichi egizi avevano la cultura dell'anima della mente dello spirito sapevano manipolare queste tre cose e conoscevano l'universo in un modo che non manco ci sogniamo da dove veniva questa conoscenza questo è un problema ancora totalmente da risolvere quello che si può dire guardate quanti in quante fotografie pittogrammi bassollievi e riproduzioni ci sono queste lampade guardate come si vede bene il cavo che esce dalla dal fondo del di questa roba e vedete che per esempio in uno dei due casi il lo zed cioè il vibratore e non c'ha le braccia alzate nell'altro c'ha le braccia alzate in un caso è acceso nell'altro caso è spento questi due cose sono due vignette che mostrano quello che succede prima in figura a destra di chi guarda e quello che succede dopo figura a sinistra di chi guarda e nella figura dopo si vede chiaramente che c'è un personaggio in basso che e c'ha in mano la palletta che prima in realtà non aveva quindi voglio dire non è che ci voglia una grande fantasia per capire queste cose per esempio nella struttura della croce anche che è quella specie di croce con una specie di ricciolo in alto dentro la croce anche ci sono sempre pitturate tre pallette e guardate che sono una verde una rossa e una blu allora questo cosa vuol dire vuol dire che archetipicamente archetipalmente gli antichi proprio perché sono mammiferi come noi oggi se appartengono alla stessa razza nostra quando immaginano qualcosa l'immaginano con la nostra stessa identica creatività quindi una parte animica verrà vista blu una parte spirituale rossa e una parte mentale verde né più né meno come nel triade color testo dinamico flash professore avevamo una domanda perché me la segnalavano dalla regia proprio sulle lampade di dendera se possiamo eccola qui ci scrive marco moderato ma la teoria dell'anfratto di gilgamesh è coerente con le lampade di dendera non so che cos'è la mia ignoranza è tale non ho la più pari di idea di cosa sia c'è da dire che nella epopea di gilgamesh ci sono tantissime cose che ricordano in realtà è evidente la tutta la storia del popolo antico egizio gli stessi personaggi lo stesso di otto hanno hanno nomi diversi ma che poi sono stati ripresi dalla dalla epopea ebraica dove noè viene chiamato gilgamesh viene chiamato upnapistin ma insomma e pensate che gilgamesh va alla ricerca di che cosa ancora una volta della vita eterna dell'immortalità per meglio dire e l'unico che gliela può dare upnapistin perché lui che ha salvato l'umanità perché attraverso il diluvio universale ha salvato tutte le specie umane mettendole nell'arca di upnapistin ecco gli dei per ringraziarlo gli hanno dato l'immortalità quindi gilgamesh sa esattamente questo si fionda in un percorso iniziatico gilgamesh non vuole dargli l'immortalità ma la sua moglie che rappresenta poi la parte animica decide di dargli questa di dirgli come si fa e quindi c'è questa erba che gilgamesh deve estrarre dal mare e poi riportarla a casa ovviamente le cose non funzionano così perché un serpente durante il viaggio vi mangerà sta erba e lui tornerà cornuto e mazzato si potrebbe dire no come a napoli ma ecco che ancora una volta lui come tutti gli eroi sostanzialmente gli dei egiziani come tutti gli eroi del mondo dell'europa del nord cioè norreici tutti avevano questo liquido da bere che li avrebbe resi immortali anche i dei della grecia gli dei non sono eterni sono immortali solo se bevono quella specie di amrita secondo gli antichi della valle del tigre dell'eufrate e questo lettere prende diversi nomi ma alla fine e siamo sempre lì c'è una sola leggenda sostanzialmente posso collegarmi su questo ragionamento sempre restando sul mondo sumero accadico perché mi ricorda tanto quelle borsette no quando ora stai raccontando questa cosa del bandudu si chiama tecnicamente che insomma dovrebbe essere collegato e corrente come la vedi questa la cosa è incredibile perché queste borsette che sono borsette di pietra che si vedono nei 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 dei massorilievi ma ci sono anche conservate veramente e sono borsette che sostanzialmente il dio enchi o qualche altro dio portava nella mano sempre sinistra perché nella mano destra invece mostrava qualcosa che assomigliava a un orologio bene queste borsette sono in tutte le parti del mondo ce l'hanno nella merita in america latina a gobek tepe sono stati trovati in cina le stesse identiche raffigurazioni questo che cosa vuol dire cioè una cosa che avevano gli azzechi è una cosa che avevano i babilonesi questo vuol dire una cosa sola c'è una cultura unica che ha acculturato tutti queste razze del mondo perché ha colonizzato questa cultura praticamente tutte le parti del mondo queste sono le famose borsette e e che dire in tutte queste parti del mondo noi troviamo guarda caso piramidi guarda caso teschi allungati di esseri idoli cocefali molto antichi troviamo tribù con percentuale isotopica del sangue percentuale di rh negativo nel sangue molto elevata troviamo costruzioni di dolmen dappertutto tranne che in un posto in india dove perché in india no perché in india no e bisogna andare a chiederlo alla civiltà tamil che è la civiltà più vecchia dell'india che nei suoi scritti quando tali sono diventati perché prima c'erano gli uomini libro raccontano di un'altra civiltà la civiltà che apparteneva che viveva nel luogo chiamato atala che vuol che poi diventerà atzlan e dove harian vuol dire lo dico sempre i perfetti che vengono dal cielo astlan è la zona il territorio abitata dai dai perfetti che vengono dal cielo sostanzialmente da quelli che vengono dal cielo più propriamente e poi gli aztechi vengono da astlan secondo un antico manoscritto che si chiama manoscritto boturini che risale 1600 il signore che lo comprò per prima era questo signore italiano boturini dove si vede proprio la migrazione da un'antica da un antico posto atlantide astlan dove c'è un isoletta con due personaggi di maschio e una femmina che scappano da questa isoletta prendono la barca e vanno a fondare un tempio sulle coste dell'america del sud e su questa isoletta di partenza c'è una bella piramide a gradoni quindi è chiaro che gli antichi popoli mesoamericani sapevano esattamente da dove venivano e così gli antichi popoli indiani i tamil sapevano esattamente che al di là dell'oceano indiano c'era un posto chiamato atala dove c'erano questa gente e non solo ma c'era un posto che ora è l'australia dove i capi di queste popolazioni avevano costruito delle piramidi e infatti noi troviamo piramidi in australia e in nuova zelanda dove ci sono statuette di cultura sostanzialmente sia indiana che antico egizia pensate che in australia c'è una una parco dove una parete è piena di geroglifici egizi che raccontano la presenza e la storia di queste due piramidi di cui una sola è stata trovata si chiama la piramide di jimpe e di cui ci sono tutti tutti i lati ovviamente cosa ci facevano gli antichi egizi in australia e gli antichi egizi non sono mai andati in australia in australia ci sono andati le stesse persone che hanno insegnato gli antichi egizi a scrivere a leggere con le figurine e allora questo è successo in australia ed è successo nel canale del nord dove la tribù dei micmac scriveva a geroglifici egizi e i primi preti gesuiti si sono accorti di questo ci hanno scritto anche due libri ricopiando in geroglifici d'egizio le preghiere del cattolicesimo per insegnarli ai micmac con le figurine egizie pensate grazie professore io mi corre l'obbligo ci avviamo verso l'ultima parte della nostra puntata mi corre l'obbligo di fare dei ringraziamenti io vorrei salutare e ringraziare l'amico franco cimmino il nostro fedelissimo telespettatore oltre che un nostro abbonato e un nostro sostenitore grazie franco per il gentile sostegno poi pregherei la regia di mandarmi una schermata però se le diamo qualche minuto di aria in modo che lei possa ritemprarsi perché veramente è avvincente ma abbiamo una balanga di domande ancora a cui rispondere io volevo condividere considerato che mi dicono dalla regia che da tutti i social che ci stanno intercettando abbiamo superato quota mille di persone che sono in collegamento con noi volevo condividere una riflessione con i nostri amici telespettatori pensate che da quando siamo partiti con la nostra rubrica meno di tre anni i non iscritti al nostro canale costituiscono la maggior parte del popolo di oltre la storia immaginate in meno di tre anni abbiamo avuto un milione ottocentosettantaquattromila duecentoventitré visualizzazioni da parte di persone non iscritte che costituiscono dunque il sessantaquattro virgola sette per cento in meno di tre anni oltre la storia offerto un prodotto di trecentoquarantaseimila ore visualizzate da persone che non sono state iscritte abbiamo ora in questo momento in collegamento con noi più di mille telespettatori non è un gesto semplicissimo il mio invito a tutti quanti voi di iscrivervi iscrivervi in numero veramente grande perché la nostra comunità possa crescere e la nostra famiglia di oltre la storia possa veramente fare grazie al vostro contributo allora mi danno segno dalla regia che ci sono ancora altre domande prego regia professore qualche ancora qualche minuto insieme a noi ci scrive Silvia Ambu professore pensa che anche in Uraghi in Sardegna potessero avere la stessa funzione rigenerativa visto che sorgono tutti su corsi d'acqua sotterranei grazie Silvia ne abbiamo qualcun'altra sì un'altra ancora ci scrive Domenico Manzo anche monumenti megalitici irlandesi scozzesi come i Tara servono per la rigenerazione servono per la rigenerazione in questo caso i personaggi chiamati islander hanno un ruolo primario stiamo in tema quindi professore prego a lei sì sì non ho dubbi su questo fatto tutte le costruzioni megalitiche hanno a che fare con l'acqua soprattutto in Sardegna nessuno ha la più pari idea di cosa potessero servire i in Uraghe ma io sono assicuramente e sicuramente invece convinto che i cosiddetti pozzi sacri non fossero altro che strumenti per creare una certa vibrazione sono come delle ocarine di pietra il soggetto veniva messo dentro con i piedi nell'acqua l'acqua fa trasduttore delle basse frequenze il vento entrava in questa cosa si ottenevano le vibrazioni e dal buco centrale in alto usciva quella unica nota che poi avrebbe curato chi era all'interno di questa struttura sui in Uraghe sembrano forme primitive di una cultura ancora precedente alla cultura di 36 mila anni fa perché noi abbiamo avuto diversi Yuga e credo che quella sia qualcosa che va ancora al di là della presenza degli antichi Atlantidei su la Sardegna perché è vero che c'è una piramide a Gradoni in Sardegna molto nota che rappresenta sostanzialmente sembra una struttura mesopotamica ma i mesopotamici non sono mai andati lì ma come c'è anche un vocabolario pensate sardo sumero pensate un vocabolario scritto da un esperto che io ho un bulmone grosso così ma allora come mai i sardi hanno questa cultura perché non è che i sardi hanno la cultura sumera sono i sumeri e i sardi che hanno la cultura Atlantidea ecco dove scatta il nuovo modo di vedere le cose sì non solo in Sardegna ma in Irlanda in Scozia in Inghilterra in generale tutti quei monumenti che assomigliano a delle grosse cupolone con una fenditura nel mezzo e che sostanzialmente erano monumenti dichiarati monumenti funerari hanno una caratteristica fondamentale fateci caso per esempio sono pieni di un certo tipo di rigoro scritto nella roccia che è una spirale e la gente pensa ha sempre pensato che quella spirale fosse un simbolo della galassia ma figurati simbolo della galassia quella spirale lì è la stessa spirale che noi troviamo sui piccoli aereetti in bronzo boliviani sudamericani che sembrano dei piccoli giocattoli e che sono dei piccoli aerei che noi troviamo e lì ci sono gli stessi simboli cosa vuol dire quello è il simbolo del vento è il simbolo dell'aria è il simbolo archetipico della cosa che gira del twister cosa vuol dire la presenza di quel simbolo che lì c'era il vento lì c'era l'aria che faceva funzionare quelle strutture come la piramide grazie professore eduardo atti no io chiaramente le domande potrebbero essere veramente tante e in questo momento siamo in conclusione quindi io voglio dare giusto lo spazio ai nostri amici da casa per per dire qualcosa in finale ok grazie eduardo allora prego regia se mi segnala ancora qualche eh domanda perché ne abbiamo una valanga le stiamo eh stiamo recuperando ok ci scrive l'amico franco cimmino ciao franco infatti nelle piramide ci sono geroglifici laddove necessitava l'uso di fiaccole ma non sono state trovate tracce di fuligine grazie franco ce n'è qualcun'altra che possiamo aggiungere ecco qua ci scriveva un'amica prima non ricordo se era un amico o un'amica però leggevo la domanda quindi io me l'ero appuntata e la volevo fare cosa ne pensa Giovanni ecco qua Giovanni spara ciao Giovanni cosa ne pensate delle presunte piramidi in campagna allora professore problema della fuligine nelle piramidi egiziane e le presunte piramidi in campagna allora eh l'illuminazione all'interno della piramide di Cheope secondo me veniva fatta utilizzando l'acqua perché quando l'acqua l'acqua si comporta come una fibra ottica provate a eh prendere una bottiglia d'acqua a riempirla d'acqua e poi la eh illuminate con un raggio laser e poi in una stanza buia ne facci fate un buco quando l'acqua esce ecco che vedete che è tutta illuminata cioè come se la la luce piegasse è come una fibra ottica cioè l'indice di rifrazione dell'acqua non permette ai fotoni di uscire ma rimbalza dentro l'acqua quindi quando la piramide era piena d'acqua bastava con un laser illuminare una qualsiasi un qualsiasi punto della struttura che tutta la luce si sarebbe sparsa come una piscina eh illuminata da sotto di notte ecco è lo stesso effetto quello è l'unico sistema per poter illuminare quella bestia che è la piramide senza avere delle fiaccole che poi avrebbero eh lasciato la origine e ovviamente mi sono dimenticato l'altra domanda piramide in campagna prof le presunte piramide in campagna sì allora le piramide è una una delle slide che mostrerò ai esi dopo domani parla proprio delle piramidi in campagna ehm non sono state studiate sono sotto gli occhi di tutti come al solito e non sono eh non è possibile confonderle con strutture eh casuali no? ehm a volte viene fuori il CICAP che dice no ma eh ci sono tante piramide nel mondo perché la piramide è una struttura naturale più facile energeticamente da crearsi ma palla clamorosa professore possiamo ricordare dove stanno in campagna queste piramide? Non ricordo in questo momento ma ci sono due luoghi in cui stanno. Sono sia a Benevento a Caserta e a Salerno. Ecco sì esatto esatto grazie prego. Niente e quindi è bene acquisire consapevolezza e coscienza che la civiltà atlantidea ha toccato anche l'Italia. Pensate che noi abbiamo ehm nella nella ehm l'Italia del nord ehm quindi zona della Val Padana ehm ritrovato alcuni teschi che risalgono a ventimila anni fa che hanno delle operazioni dentarie che sono identiche come eh odontoiatria a quelle che noi abbiamo trovato sia in Mesoamerica che in una delle antiche città della eh civiltà della valle dell'Indo. Cioè questi avevano la capacità come in Egitto ehm alcune mummie hanno proprio questi i denti operati trapanati ci sono addirittura delle pietre preziose messe dentro. Fanno dei ponti. I veri e propri ponti. Quindi tutti uguali nel suo stesso mondo tutti ah sono andati alla stessa scuola di dentista? No o meglio sì la stessa scuola di dentista è andata e ha colonizzato tutte queste persone tutti questi posti. Quindi in Italia è giusto trovare sia in Italia del nord che in Italia del sud piramidi che sono addirittura ehm ora coperte di vegetazione ma non vi preoccupate perché coperte di vegetazione erano anche la la piramide eh una delle principali piramidi del sole del 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 Yucatan che all'inizio nella storia si vedeva solo questo grande ehm eh bosco a forma di piramide. Le maggior parti delle piramidi eh americane che saranno una sessantina una settantina pensate nel suono degli Stati Uniti ci sono una sessantina dei piramidi e quelle anche quelle sono sotto sotto erba ma cioè come le piramidi jugoslave ma quando vai a scavare sotto ci sono i lastroni si vede chiaramente che lì sotto c'è una piramide. grazie professore entusiasmante davvero la davvero la storia così come e mi introduco nella parte conclusiva della nostra trasmissione la storia andrebbe riscritta c'è davvero una storia da riscrivere vero Edoardo e siamo giunti anche al momento di lanciare l'appuntamento che vedrà ancora una volta protagonista la città di Torre del Greco il prossimo ventotto ottobre ormai il tempo stringe siamo quasi a due settimane tra qualche giorno dall'evento organizzato da TV City nell'ambito della rubrica oltre alla storia con Max Caranzano che direttamente da Torino sarà ospite qui a Torre del Greco per parlarci della necessità della utilità ma anche della bellezza di una storia da riscrivere vedete in sovrimpressione il QR code a cui potete fare immediatamente riferimento e che vi introdurrà con tutte le informazioni utili per la prenotazione dei biglietti inutile dirvi che siamo agli sgoccioli e del tempo e dei posti è bello avere la vostra presenza è bello il vostro entusiasmo quindi vi invito ad affrettarvi nell'acquisto e nella prenotazione degli ultimi posti penso di non aver dimenticato nulla professore eduardo se ho dimenticato qualcosa hai detto tutto bene salutiamo io personalmente saluto il professore insomma ci ha fatto piacere risentirci un'altra volta e l'appuntamento per un'altra chiacchierata sempre qui su TV City e buonasera a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo grazie eduardo professore l'abbiamo trattenuta qualche minuto in più rispetto all'ora canonica i nostri amici non ce ne vorranno e lei non ce ne vorrà ma la città di Torre del Greco come ha sperimentato lo scorso giugno è stata veramente calorosa nell'accoglienza e nelle manifestazioni di gratitudine alla sua persona allora professore vorrei un tuo personale saluto a tutti quanti noi alla nostra città gli amici ne sono più di mille in collegamento con noi allora chiaramente sì grazie ancora una volta per la vostra ospitalità non mi resta che augurarvi visto i numeri che fate ancora di andare avanti in questo vostro percorso che è anche un mio percorso un nostro percorso che è un percorso di coscienza e di consapevolezza e quindi mi trova perfettamente d'accordo in linea con voi e sicuramente quando ci ritroveremo i vostri numeri saranno ancora molto aumentati e allora noi andremo sempre avanti noi ci siamo e ci saremo ovviamente l'attendiamo per le future scoperte e per il prodotto delle prossime ricerche anche insieme al dottor Filippo Biondi io saluto Ciro Gaglione dalla regia i nostri amici telespettatori un saluto ad Edoardo Olme appuntamento alla prossima settimana con la nostra rubrica Oltre la storia buonasera da Salvatore Perini Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici